La solidarietà verso l'Ucraina non si arresta. La Croce Rossa italiana come sempre ha dato un enorme supporto a tutte le operazioni e da oggi attraverso la propria sala operativa locale continua a farlo, attivando anche uno sportello dedicato all'emergenza ucraina, attivo il lunedì e il venerdì dalle 14 alle 18 e il mercoledì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Uno sportello attivo da oggi per aiutare i rifugiati alla compilazione e invio della richiesta per il contributo di sostentamento attraverso la piattaforma del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. È possibile prenotare il proprio appuntamento chiamando direttamente la Croce Rossa locale. Per aver diritto al contributo si deve aver presentato già il permesso di soggiorno per protezione temporanea presso l'ufficio immigrazione della locale Questura, un ulteriore servizio che mette a disposizione la Croce Rossa oltre all'attività costante e quotidiana che già porta avanti per aiutare nella burocrazia i profughi in fuga dalla guerra che possono avere questo contributo di sostentamento, così si chiama, se si sistemano in modo autonomo al di fuori dai centri di accoglienza tradizionali. Lo sportello praticamente avrà la funzione di aiutare i profughi per l'inserimento dei dati sul portale del Dipartimento di Protezione Civile per avere quel sostentamento messo adesso a disposizione per tre mesi, 90 giorni e per le famiglie diciamo per i rifugiati, profughi, quindi parliamo non solo di ucraini. Nello sportello ci sarà la presenza di un mediatore culturale e poi di operatori di Croce Rossa che operativamente faranno l'inserimento sul portale. I diversi volontari ovviamente supportano quella che è la struttura di Avezzano, quindi quando c'è bisogno operativamente partono anche con i convoi umanitari, danno supporto a quella che è la struttura, il COE, mentre qui nel comitato diciamo ci occupiamo poi dell'accoglienza ovviamente delle famiglie, soprattutto donne e bambine che arrivano qui nella nostra città.